Ciao ragazzi, si è appena conclusa la conferenza stampa di Massimiliano Allegri in presentazione di Juventus Genua. Una partita che, lo so, può sembrare banale sulla carta, ma anche domani sera c'è quel piccolo pezzettino che va aggiunto all'interno di un puzzle che fino a questo momento vede pochi pezzi agganciarsi tra di loro. E quindi commenteremo brevemente quella che è stata la conferenza stampa e proverò a darvi quella che, secondo me, è la probabile formazione per domani, ma cercherò di chiudere in fretta questo discorso legato al Genua perché ci concentreremo assolutamente domani, dedicheremo tutta la giornata a questo. Oggi voglio invece spendere due parole su quello che sta succedendo a extracampo e vi spiego anche il perché. Ad ogni modo c'è OneFootball da scaricare qui sotto in descrizione per rimanere aggiornati sia dentro al campo che fuori dal campo, perché questo è uno dei pochi video che ho fatto, che farò anche in futuro per parlare di quello che sta accadendo nelle sedi legali della Juventus. Quindi se volete informarvi, se volete cercare di capire tutte le ultime notizie, OneFootball è il posto dove potrete leggere tutto quello che sta accadendo. Ovviamente vi chiedo di lasciare un mi piace al video per continuare questo processo di crescita del canale, che per quanto mi riguarda sono molto soddisfatto. Spero che anche voi possiate notare qualche cambiamento da quando ho deciso di renderlo la mia occupazione a tempo pieno. Sono veramente molto felice di quello che sto vedendo e quindi vi ringrazio per continuare su questa falsarega. Un mi piace, un commento per cercare di riassumere tutta la vostra idea a proposito di questo contenuto. Lo leggo molto volentieri qui sotto nei commenti. Dicevamo Juventus-Genua. Penso che Allegri continuerà con il 4-2-3-1, ce l'ha ribadito anche oggi, ci ha dato qualche spunto di formazione. Gioca Locatelli, dovrebbero giocare Pellegrini e Kuluseski, dovrebbe giocare pure Bernardeschi, quindi per il resto dovrebbe essere tutto quello che abbiamo visto già con la Salernitana, continuità sul modulo, continuità su questi giocatori, sulla linea verde, il fatto che dovrebbero giocare Pellegrini e Kuluseski, che non significa che giocheranno. Ci conosco Allegri, significa che potrebbe esserci anche della pretattica. Ad ogni modo queste le indicazioni che ci ha dato. E poi ci sono dei ballottaggi, ha parlato del giocatore di fianco Locatelli o dei giocatori di fianco Locatelli, quindi se sarà 4-2-3-1 ce ne sarà soltanto uno. Il ballottaggio d'oggi è tra Ramsey e, anzi scusate Ramsey, Ramsey è infortunato, l'ha ribadito anche oggi, infortunato, non lo so com'è lì il discorso, tra Rabiot e Bentancourt, dicendo che Rabiot quel ruolo lo fa anche il nazionale francese, anche se l'abbiamo visto pure sull'esterno il nazionale francese, e deciderà domani chi far giocare davanti tra Morata e Moise Ken. Questa dovrebbe essere bene o male la formazione, probabile con i ballottaggi che abbiamo detto oggi, dovrebbe tornare Bonucci al centro dell'area di rigore, vedremo seconde elite, molto probabile di sì, Chesney in porta e Dybala è ovviamente quadrato perché ad oggi c'è lui, a meno che non si vada su De Winter e si vada a fare una sorpresa, ma non penso. Quindi questa dovrebbe essere la formazione di domani, se ci saranno aggiornamenti ne parleremo anche su Twitter, seguitemi anche su Twitter, dato che abbiamo pochissimi seguacci lì, quindi forse non sapete che ho anche un profilo Twitter e anche un secondo canale YouTube dove parlo di calcio extra Juve, quindi seguitemi anche lì, in descrizione trovate tutti i link. Ora passiamo al discorso extracampo. Perché ne ho parlato appunto ieri nel video che ho fatto uscire con Gianni Balzarini, anzi ne ha parlato lui, perché giustamente una volta che ho la possibilità di fare un contenuto, di creare qualcosa con un giornalista professionista, lascio a lui la parola che sicuramente è più informato di me, ha studiato più di me e sa di cosa si sta parlando. Io vi dico la mia, ma l'ho detto anche poco tempo fa, non voglio intanto parlare di queste cose perché non sono di mio interesse e soprattutto perché non ne sono competente. Quindi il video di oggi non sarà un riassunto di tutto quello che è accaduto, ragazzi non ne ho la competenza. Io queste cose non le ho studiate, non posso mettermi a studiare per capire queste cose quando ci vogliono anni, 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 anche perché andrei veramente a sopravvalutarmi. Io non sono questa persona, non ho competenze a livello giuridico, non so di cosa si sta parlando, quindi io non posso esserlo. Ci sono tanti altri canali che so, stanno cercando di portare approfondimenti da parte di chi comunque ha queste competenze. Ragazzi è giusto così, cioè viviamo in un mondo in cui la competenza va premiata. Io sono un opinionista, a me piace parlare di calcio, anche quando parlo di calcio io dico sempre secondo me, tutto quello che dico sul canale è secondo me è così, secondo me ecco là, non vado sicuramente a mettere bocca in discorsi che non possono appartenere al mio essere. Io ho grande rispetto per chi ha esperienza e titoli di studio anche in alcuni ambiti, quindi non sono io che voglio mettere bocca, anche a costo di non far video per parlare dell'argomento e magari portandovi dei contenuti in cui sono gli altri a parlare, sono gli altri a spiegare, perché io ragazzi queste cose mi dispiace con tutto il bene del mondo, non le posso sapere. A me piace parlare di pallone, mi piace potervi dire secondo me questo deve giocare qui, secondo me abbiamo fatto sta partita, secondo me possiamo migliorare così. E sono tutti secondo me, perché anche qua non ho la faccia tosta di pensare, di saperne di più, di chi lavora quotidianamente per la Juventus, per il Milan, per l'Inter e tutte queste cose qua. Quindi tutto quello che esce alla mia bocca è sempre un parere soggettivo, il parere, l'opinione di Luca Toselli. Vi dico però quello che sto sentendo, le mie sensazioni, perché esattamente una settimana fa ci trovavamo qua, vi leggevo l'articolo di Calcio e Finanza su OneFootball dove era riportata tutte queste informazioni e vi dicevo ragazzi se questa è l'accusa, una multa, eventualmente qualche punto di penalizzazione, se proprio si va a scavare, ma niente di più. Poi ho fatto qualche intervento sia da Siculfa Calcio Totale, Siculfa Gabbo, sia oggi Cassavoglio su Twitch, ovviamente mi hanno chiesto la mia opinione, io lì non mi posso tirare indietro, la mia opinione è se tutto questo discorso Operazione Prisma nasce legato alle plusvalenze, secondo me si risolve a terra lucevino, perché da quando memoria, quindi ben prima del 2006, quando ho iniziato effettivamente a seguire il calcio, che le società fanno queste cose per il bilancio, per migliorarsi il bilancio e non solo in Serie A, perché anche qua mi è toccato sentire che questo è il discorso, è una roba che fanno i potenti, no, vi posso assicurare che anche nelle categorie minori questo è un procedimento che viene continuamente effettuato, continuamente, e poi io ora sono libero professionista, io fatturo tutto quello che mi arrivo, pago le tasse, non ne vado niente, quindi per forza di cose io sono proiettato sul discorso che il mondo va così, perché io faccio così? E pago al mio commercialista quello che devo pagare, pago le tasse su quello che fatturo, è tutto quello, però lo sappiamo quante persone vado nel fisco, quante società cercano di fare il nero, non è una roba inedita, ma viviamo nel mondo delle favole, delle fattine e non sto dicendo che vada bene, perché lo ripeto, io sono un libro professionista, io le tasse le pago, non ne vado niente e quindi questa è una confessione, signor giudice, io sono regolare, venite a fare i controlli, sono a posto, ad ogni modo questo è il modus operandi corretto, se ora mi volete venire a dire che la Juventus è l'unica società in Italia che ha fatto delle plusvalenze, attenzione perché qua ora si sta ragionando sul discorso plusvalenze, sul termine plusvalenze come negativo, ma il termine plusvalenze non è negativo, cioè intendiamoci, fare delle plusvalenze non è sbagliato, è farle fittizie che diventa sbagliato, ma è un procedimento, ragazzi, non mi stancherò mai di dirlo, lo fanno tutti, tutti, e se ci mettiamo qui una giornata intera, andiamo ad analizzare tutti gli ultimi movimenti degli ultimi dieci anni di tutte le sessioni di mercato, di tutte le squadre che ha militato in Serie A, state sicuri che vi trovo tanti di quei movimenti senza senso da farvi venire il vomito, il problema qual è? Che è sempre qui, è un parere soggettivo, non oggettivo, se io dico che questo joystick, perché l'ho usato io, costa 15 milioni di euro, se arriva uno e lo compra 15 milioni di euro, tanto è un coglione, ma nessuno gli può dire, ma quel joystick valeva 50 euro, 30 euro, quello che è, e ho capito, lui però mi dice, io lo volevo, e sono disposto a pagarlo così, e questo è il nulla di fatto atomico che si è sviscerato negli anni precedenti quando Inter e Milan erano interessati per questa cosa qua, quindi da quando ho pensato, plusvalenze, vabbè ragazzi, plusvalenze, Massimo ci fa una multa, perché, ripeto, e poi la mia idea è, partono dalla Juve, perché magari è la società che ne ha fatte di più, subito si parla di 42 operazioni di mercato di vento su 62, partano da lì, perché ce ne sono state, arriva tutta la serie A coinvolta, fanno una pacca nel culo a tutta la serie A, non fatelo più, cerchiamo di mettere una regola, adesso ci pensiamo, mentre che ci pensiamo la regola non esce, si continuano a fare plusvalenze, perché questo è il modus operandi in Italia, e lo sappiamo, e non è solo l'Italia che fa questa roba con le plusvalenze, e ricordatevelo che se una società fa una plusvalenza falsa, fittizia, gonfiata, chiamatela come volete, non la fa da sola, non la fa da sola, ma la fa con almeno un'altra società, a meno che non sia un discorso come il Chievo, che faceva delle plusvalenze sui giocatori che poi non partivano effettivamente, quello è proprio tutto un altro discorso, quindi cerchiamo di non mischiare i fatti, cerchiamo, e poi davvero, il fatto che ci sia un'indagine non significa che ci sia colpevoli, perché questa è l'opinione pubblica, questo è il modus operandi che ho visto in questa settimana, ah la Juventus è indagata? E beh, sempre loro, ci sono sempre loro di mezzo, però poi quando si è allargata la rete e sono saltati fuori la Roma, il Napoli, l'Inter, il Milan, prima il caos mediatico, ah la Juventus, beh certo colpevoli, il Kodakons, Serie B, l'Evoca degli Scudetti, colpevoli, 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 ovviamente non tutti i tifosi, perché non sono qua a farti tutta l'erba un fascio, ma c'è stata una gran parte di tifosi che non vedevano l'ora che saltasse fuori una minima cosa sulla Juventus per dargli addosso, questo è quello che ho visto in questa settimana, poi quando sono entrate le altre, retromarcia, oppure eh ma la Juve ne ho fatti di più, come della serie, io vado a rubare, vado a rubare un milione di euro, tu vai a rubare, rubi mezzo milione di euro, e sì però tu ne hai rubato un milione, cioè sei più colpevole di me, no intendiamoci, se una cosa non va fatta, non va fatta, parte il fatto che non c'è un Oregon, un ente che, ripeto ancora una volta, può dire che questo joystick vale 30 euro o 100 euro, non c'è un modo, perché è un discorso soggettivo, a seconda di che compra e di chi vende, questo è, però vi è sembrato del, eh vabbè però voi l'avete fatto più volte, eh vabbè però l'avete fatto con più soldi, quindi voi sì che siete colpevoli, noi no, no, attenzione, se si arriva a un grado di colpevolezza magari poi ci saranno delle pene diverse, a seconda dell'ammontare di plusvalenze gonfiate, però se uno è colpevole quello è anche altro, cioè qui non si scappa, questo discorso invece legato alla carta di Ronaldo e le intercettazioni telefoniche, poi qua, ragazzi io non riesco veramente a spiegarmi come ci sia un'inchiesta in corso, perché l'inchiesta è in corso, non si sa ancora niente, per quanto l'opinione pubblica abbia già fatto il processo e abbia già emesso il giudizio colpevole, perché l'Iventus, eh beh, l'Iventus può non essere colpevole, l'Iventus è colpevole per forza di cose, però c'è un'indagine in corso, un'inchiesta in corso, sui giornali ci sono le intercettazioni telefoniche di quello che è successo, sugli organi di informazione, come si sono arrivate lì, bah, non dovrebbero essere lì e ancora una volta l'opinione pubblica si gasa perché legge queste cose, magari le va anche a decontestualizzare come accade molte volte, però inchiesta in corso, intercettazioni già sul giornale, meraviglioso, veramente fantastico, qualcosa di incredibile, e questo discorso sulla carta di Ronaldo mi sembra il copia in colla di quello che è successo la settimana scorsa sulle plusvalenze, ah, la Juventus, eh beh, allora è colpevole, perché ora si sta facendo un discorso, io oggi ho fatto il cretino dicendo che la carta di Ronaldo ce l'ho io che era il cartellone unizio di Ronaldo che vedete lì dietro, però si sta parlando di una carta di Ronaldo che è meglio che non salti fuori, perché è questa la trascrizione letterale della intercettazione telefonica, però non si sa che cosa c'è scritto, cioè su questa carta, che cosa dice questa carta? C'è un'eventuale, ipotetica, possibile, probabile, plausibile carta segreta tra Ronaldo e la Juventus che non è dovuta essere stata inserita a bilancio, che dice qualcosa che non si sa, che non si sa se esiste ancora, perché se davvero esiste una carta del genere, se sono Ronaldo, Mendes, dato che sono coinvolti, verranno ascoltati anche loro, o Agnelli, Cherubini, Nedved, la prendo, la strappo, la brucio, la faccio in mille pezzi, se davvero c'è questa carta che mi rende colpevole se viene trovata, questa carta è stata distrutta, perché se esiste davvero questa carta, ipotizziamo che è davvero stato fatto qualcosa che può punire in maniera grave la Juventus, perché c'è stata una carta e ipotizziamo che, non lo so, 15 milioni di United e 15 milioni della tasca di Ronaldo per non fare minusvalenza della Juve, quindi la Juve ha preso 15 milioni da Ronaldo per pareggiare l'operazione di 117 milioni che l'ha prelevato da Real Madrid, per fare minusvalenza sul bilancio, sì, ma avere 15 milioni di euro cash in nero che si tenga lì, è un'ipotesi, perché è l'unica cosa plausibile che mi può venire in mente per questa fantastica carta, esiste questa carta, la stanno cercando, siamo indagati, non la rompiamo, non la bruciamo, la teniamo lì, non esiste, se davvero sono colpevole quella cosa l'ho disintegrata e se invece davvero sono colpevole, quella carta non l'ho disintegrata e salta fuori, la trovano, sei coglione due volte, uno perché sei stato colpevole e quindi devi pagare e due perché è saltata fuori e quindi paghi ed è giusto che sia così. Io non sono qua a difendere la Juventus e direi in ogni caso spero che no, se la Juventus ha fatto delle cose che non vanno bene, paga, paga, perché sono, come dicevo prima, un libero cittadino che paga le tasse e quindi ho diritto a chiedere che tutti quelli che sbagliano in Italia vadano a pagare, ma tutti, non tutti tranne la Juventus o tutti quelli che sono la Juventus e gli altri no, tutti, perché questo è il mio principio, io ragiono così, ho una morale e seguirò la mia morale e chi mi segue da tanti anni sa quanto sia importante per me il dovere morale, quindi se la Juventus salterà fuori, che sarà coinvolta in qualcosa, provato? Bene, un processo? Bene, possibilità di difendersi? Bene, che paghi, ma ad oggi sembra che si sia partiti da lontano, trovate la Juve e quindi è colpevole, trovate le altre, allora fa lo stesso, però la Juve di più e adesso c'è quella carta su Ronaldo? Ah c'è quella carta su Ronaldo? sempre loro, ma cosa c'è scritto su questa carta? Come fate voi che ora mi state dicendo questa carta su Ronaldo, quindi la Juve è colpevole, a dire che la Juve è colpevole sulla base di una carta che non si sa che cosa c'è scritto, non si sa nemmeno se esiste, sulla base di che cosa? Quindi oggi sono preoccupato lato campo, sono preoccupato perché la Juventus comunque ha fatto un comunicato che non è proprio il massimo, se dobbiamo dirci la verità, sul discorso legato anche all'aumento di capitale, la continuità aziendale, tutte queste cose qui, però ad oggi, ad oggi, ecco io continuo a vedere tutti i giorni le prime pagine dei giornali, gli articoli che poi vengono ovviamente riportati su OneFootball perché l'utilità di OneFootball, tante volte la gente mi dice, eh ma tu sponsorizzi OneFootball? Però le fa queste cose, ma certo è un'app di informazione che raccoglie tutto quello per darvi in maniera comoda, a portata di smartphone, la possibilità con un ditino di leggere tutto quello che accade, però se su OneFootball arrivano significa che i giornali, in prima pagina, tutti i giorni continuano a sbattervi questa roba, anche se non ci sono aggiornamenti, perché l'importante è che ci sia scritto Juventus indagata e quindi il ragionamento per chi non vuole sapere la verità, perché questo è un discorso di non voler sapere la verità, questo è un discorso di voler a tutti i costi vedere la Juventus colpevole, di cosa? Boh, che sia le plusvalenze e non hai minimamente competenza sul discorso plusvalenze, sul discorso bilanci, disinformazione anche, perché ora non so se è vero, l'ho letto su Twitter, io spero davvero di no, ma se le Iene hanno davvero fatto il servizio che spiega anche la plusvalenza e io compro un giocatore a 1, lo vendo a 10, ho fatto plusvalenza di 9 perché 10-1 fa 9, è anche disinformazione, come potrebbe essere disinformazione quella che sto facendo io, quindi metto le mani avanti e dico non so se è vero, l'ho letto, se è vero è scandaloso, se non è vero mi scuso, però prima di fare un servizio di questo tipo eventualmente basterebbe informarsi e tanti mi stanno facendo gli esempi nei commenti, mi stanno dicendo io ho fatto 500 milioni plusvalenza, finti, beh, intendiamoci, se le hanno gonfiate devi metterci quello che era il valore vero, che anche qui come lo interpretiamo, togli quelli che sono stati milioni gonfiati, non sono 500 milioni di plusvalenza, è impossibile, invece no, le classifiche di chi ha fatto più plusvalenze negli anni per mettere la Juventus al primo posto, ladri, colpevoli, come calciopoli, come nel 2006, sempre gli stessi, basandoci su che cosa non si sa, l'importante è far vedere che è la Juventus, io sto con la Juventus fino a prova contraria, perché in Italia si è innocenti fino a prova contraria, se e quando arriverà invece un grado di colpevolezza, salterà fuori questa carta Ronaldo, se eventualmente su questa carta Ronaldo ci sarà scritto che la Juventus si impegna a uccidere bambini perché Ronaldo vuole che si uccidano i bambini, oh ragazzi, poi leggeremo quello che c'è scritto sulla carta e ne prenderemo atto, ma ad oggi a me sembra follia vivere in questo mondo ed è per questo che non sto facendo video sull'argomento, ma di che cosa vi devo parlare, su un ipotetico caso di plusvalenze che ipoteticamente coinvolge tutte le squadre di Serie A e che ipoteticamente potrebbe dare delle penalizzazioni a tutti, che ipoteticamente durante un'intercettazione telefonica finita sui giornali durante l'inchiesta in corso si parla di un'ipotetica carta ipoteticamente firmata tra Ronaldo e la Juventus, ragazzi faccio prima a tirare su i numeri del Super Nelotto e ipotizzare che possano uscire quelli e poi andare al tabacchino a giocarli, eh, dai su, parliamo di calcio invece che di sta roba qua. Grazie a tutti.